La titante da 22 anni, condannato per traffico internazionale di stupefacenti, è stato smascherato grazie ai contatti regolari e mai interrotti con i familiari comaschi. Viveva in Marocco, usava documenti falsi e lavorava come agente immobiliare alla luce del sole con un'identità fasulla. Individuato dai carabinieri di Cuomo dopo mesi di indagini, il ricercato è stato arrestato dall'Interpol, è in carcere nel paese nordafricano e dovrebbero essere subito attivate le procedure per l'estradizione. Angelo Filippini, 73 anni, nato a Cuomo, deve scontare una condanna a 11 anni e 7 mesi di reclusione. Come ricostruito dai carabinieri di Cuomo, faceva parte dell'organizzazione criminale andranghetista Spinella Ottinà, che negli anni 80 operò tra Cuomo fino a Bornasco e Rovellasca. Il latitante arrestato forniva ai vertici dell'organizzazione un capannone di sua proprietà a Rovellasca, nel quale veniva custodita l'eroina acquistata dai fornitori turchi. Riceveva 30 milioni delle vecchie lire per ogni carico custodito. I carabinieri del nucleo investigativo di Cuomo, al termine di serrate indagini, basate soprattutto sull'analisi dei contatti di Filippini con i familiari, hanno ricostruito i suoi spostamenti e hanno poi trasmesso i dati alla Polizia Internazionale. La gendarmeria reale marocchina ha bloccato l'uomo a Temara, a 15 chilometri dalla capitale Rabà. Irreperibile dal 1996, Angelo Filippini è sempre rimasto in contatto con i parenti, con i quali comunicava regolarmente. Nei mesi scorsi i militari dell'arma del nucleo investigativo di Cuomo hanno ripreso le ricerche dell'attitante fino a ricostruire gli spostamenti degli ultimi anni e le attuali abitudini di vita. Quando è stato arrestato ha mostrato un passaporto rilasciato dall'autorità bulgare sotto falso nome. Una particolare mutilazione di un dito della mano sinistra ha cancellato ogni dubbio sulla reale identità dell'uomo, poi arrestato.